Prima l'hanno distratto, poi trascinato in casa ed infine costretto ad assistere ad un saccheggio in piena regola, vittima della rapina, un 85enne di Lucignano. Adesso la banda di criminali, due donne ed un uomo, è finita dietro alle sbarre. L'episodio risale allo scorso 30 settembre, l'anziano si trovava in giardino per sistemare alcune piante. Un'auto grigia si è fermata davanti a casa e sono scesi i tre banditi che hanno iniziato a conversare con l'anziano. A poco a poco però la situazione è degenerata, la banda è entrata in casa e ha iniziato ad agire con brutalità. L'uomo infatti ha afferrato l'85enne per un braccio mentre le due donne hanno rovistato le stanze in cerca di beni di valore. Trovati i soldi hanno preso tutto e sono fuggiti ma non prima di aver rotto il telefono. La vittima è comunque riuscita a contattare il figlio e a dare l'allarme ai carabinieri. I militari hanno così scoperto che fatti simili erano avvenuti anche in altri territori limitrofi. Inoltre si stava consumando in Baldarno un tentato furto aggravato con protagonista un'auto grigia uguale a quella di Lucignano. A Terra Nuova Bracciolini così la banda dopo un inseguimento anche per le vie del centro è finita in manette. A quel punto i carabinieri hanno invitato l'85enne a riconoscere i suoi rapinatori tra i cinque arrestati. L'uomo ne ha individuati tre. Si tratta di una ventinovenne, di un ventunenne e di una ventunenne tutti residenti a Frascati nel Lazio. Nella mattinata di venerdì 4 dicembre così i carabinieri di Lucignano hanno eseguito a Frascati le misure cautelari nel frattempo concesse dalla procura della Repubblica di Arezzo riuscendo a trarre in arresto tutti e tre soggetti che nel frattempo erano stati scarcerati avendo avuto accesso a misure meno afflittive. Le due donne sono state così portate nel carcere di Re Bibbia mentre l'uomo è stato condotto presso l'istituto di detenzione di Rieti.